È notte, un tizio a bordo di una prostituta, scendono dalla macchina e vanno a scopare a mezzo a un prato, è tutto buio, questa si appoggia all'arbero così, questo tagliere la comincia a trombare, a un certo punto si accende una luce, arriva i carabinieri, il carabinieri vede questo e gli fa così, Ehi tu che stai facendo? E questo che i carabinieri tirati giù sono, guarda gli fa, stavo a pisciare, e il carabinieri si affaceva, e qua il culo? Lui si gira e fa, oh, meno male che me l'ha detto, se no gli pisciavo addosso.